Ci dai due definizioni di questa vittoria e di questo grande pubblico? Inimmaginabile pensare che dopo tre partite probabilmente avessimo sette punti, perché ricordo che nelle prime tre partite abbiamo affrontato Taranto e Cerignola e quindi inimmaginabile anche questo pubblico. Vedere da settembre una tribuna così piena, stracolma è qualcosa di strano, perché poi Bitonto è sempre... ho visto tanta gente nuova, anche ieri e gli altri giorni, dopo la vittoria col Bari ho visto molta gente che non veniva al campo da tanto tempo, che per curiosità voleva avvicinarsi e penso sia stato anche questo, ma poi è stato un trascinante, anche in dieci il Cerignola ha dimostrato di essere squadra, ma grazie anche al supporto del pubblico i ragazzi hanno ripreso poi la partita in mano. Gran finale, gran carattere, perché a un certo punto le energie non erano tantissime in virtù della gara di Coppa di mercoledì. Pensare di fare tre vittorie in sette giorni non era facile, fare nove punti in sette giorni giocando col Bari, col Cerignola, col Pomigliano, è chiaro c'è stato dopo, subito dopo sono rimasti in dieci è vero, però c'è stato subito il rigore, mentalmente spesso rimanere in dieci aiuta anche a essere più compatti, quindi non è la prima volta che una squadra in dieci rimonta o addirittura poi vince le partite, perché comunque le squadre giocano, tutti si sacrificano di più, noi abbiamo subito il rigore, qualche cambio per cercare di dare più intensità, per cercare di, devo dire che Torito ha fatto un gran gol, ma i ragazzi lo metto un po' a sinistra, un po' a destra, nel mio modo di vedere ha grandi mezzi in fase di finalizzazione, ha spesso giocato in eccellenza, però è un giocatore che ha dimostrato che può starci anche in Serie D, come altri giocatori della mia squadra, la mia è una scommessa su tanti, per ora le cose vanno bene, mi auguro migliorano ancora. Una vittoria del genere, di questo peso specifico, può cambiare le prospettive per il Bitonto? Noi non guardiamo avanti, guardiamo solo domenicalmente la squadra che affrontiamo, ma nel senso che ogni domenica abbiamo il compito di fare il massimo, ho cambiato anche alcuni giocatori sia giovedì, dimostrare sempre di essere prima di tutto un gruppo, è chiaro, poi i singoli, abbiamo fatto anche tanti gol in queste prime tre partite, segno che abbiamo un'identità, che si cerca di, anche contro il Ciregnone abbiamo cercato di fare la partita, è stata meno facile rispetto alle altre squadre, ma di fronte avevamo veramente giocatori di grande spessore. Ad Altamura per fare cosa? Innanzitutto recuperiamo un po' di energie, Altamura per sicuramente giocherà chi ha giocato meno, perché comunque alcuni giocatori in questi sette giorni li ho spremuti un po', forse nella parte finale abbiamo un po' pagato questo, però vediamo, abbiamo una rossa di giocatori tutti validi, per me sono tutti uguali e quindi farò rifiatare qualcuno, andiamoci a giocare questa partita, se passiamo è bene, se non passiamo penseremo ancora meglio, ancora con più concentrazione alla gara di Sarno.